Per continuare a festeggiare il primo maggio, la giornata come sappiamo dedicata alla celebrazione del lavoro e soprattutto dei lavoratori e delle lavoratrici, vi consiglio due libri e un ciclo di romanzi all'apparenza molto diversi tra loro. Il primo si intitola Una stanza tutta per gli altri. Lo ha scritto nell'ormai lontano 1997 la scrittrice spagnola Alicia Jiménez Bartlett, nota soprattutto per i suoi gialli ambientati a Barcellona. Nel libro, che non è un giallo, l'autrice finge di avere ritrovato il diario della cuoca e governante di Virginia Woolf, Nelly, e ne intreccia le vicende con quelle vere raccontate dalla scrittrice inglese nei suoi scritti intimi. Il romanzo, come si capisce già dal titolo, rovescia la prospettiva contenuta nel celebre e comunque imprescindibile saggio di Virginia Woolf Una stanza tutta per sé, mostrando le contraddizioni tra teoria emancipazionista e reali praticabilità dell'autonomia femminile. Quello tra Nelly e Virginia è un rapporto di amore e odio che dura 18 anni, 18 anni in cui il peso delle diseguaglianze di classe si fa sentire nonostante la scrittrice appartenga a un ambiente intellettuale progressista che dello scardinamento dei ruoli sociali fa uno dei suoi punti di forza. È un libro che si inserisce nel copioso filone di narrazioni dedicate al mondo dei ricchi e potenti, visti attraverso gli occhi della servitù, che tra fine ottocento e primi del novecento ne condivideva le opulente dimore, restando però sempre rigorosamente relegata ai piani bassi. Ai piani bassi è del resto il titolo di un altro libro, questa volta a carattere autobiografico, che ha goduto di un certo successo in Italia in tempi recenti per effetto dell'interesse suscitato dalla serie tv Don Tonnabi, che adesso si è pure parzialmente ispirata. L'autrice Margaret Powell scrive questo suo memoriale nel 1968, molto tempo dopo gli anni 20 e 30 del secolo scorso, durante i quali aveva prestato servizio presso numerose famiglie altolocate dell'Inghilterra di allora. Il punto di vista è quello di una ragazza perfettamente consapevole del proprio svantaggio sociale e per niente incline a credere agli atteggiamenti paternalistici che caratterizzavano i rapporti tra padroni e servi in un'epoca in cui si iniziavano a intravedere le successive metamorfosi dei lavori di cura, dalla servitù all'eufemistica collaborazione domestica dei nostri giorni. Con ironia e sfacciataggine, l'adolescente Margaret ci mostra come la consapevolezza di classe metta al riparo dall'essere servi dentro e consenta di attuare strategie più o meno fortunate di riscatto. Entrambi i libri di cui ho parlato sono letture salutari, specialmente in momenti in cui il rischio di rappresentare il mondo del lavoro come un tutto omogeneo, percorso da problemi analoghi, semplicemente declinati per categorie professionali diverse, è molto forte, perché sono libri che ci ricordano come le diseguaglianze non hanno mai smesso di esistere. Una volta erano i servi, ora sono i rider, i precari di ogni settore. E i braccianti di oggi non sono poi tanto diversi da quelli raccontati da Valerio Evangelisti nella trilogia Il sole dell'avvenire, che ci riporta alla Romagna dei contadini poveri, delle masse poporali, in lotta per la sopravvivenza e in cerca di soluzioni politiche e sociali per vedere riconosciuti i propri diritti. Nella sua appassionante saga, che dalla fine dell'Ottocento al secondo dopoguerra ci fa ripercorrere i momenti salienti della storia dei vinti, dal diffondersi degli ideali socialisti e anarchici alle violenze fasciste, dalle cooperative di lavoratori alle devastazioni delle guerre, Evangelisti ci racconta l'epopea di chi ha conquistato, perso, riconquistato il diritto a una vita senza fame e miseria e ci ricorda che non c'è e non ci sarà mai nessun lieto fine finché il lavoro di cui parla la nostra Costituzione si accompagnerà a sfruttamento, discriminazioni e inuguaglianze.